Il tema della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente, del nostro pianeta è sempre più importante anche nel turismo. Allora, come comunicare un turismo sostenibile per attirare turisti nel nostro paese? Sostenibilità, che come ha giustamente ricordato anche il Ministro, non è soltanto sostenibilità ambientale, ma anche di relazioni sociale, culturale. Quale risorse avete messo in campo, come state investendo? Questo è un tema oggettivamente molto complesso, dove momenti di riflessione come questi sono certamente utili per aiutare sia il decisore pubblico, ma anche i stakeholders del mercato a fare dei ragionamenti e quindi a capire meglio anche su quali tendenze, su quali versanti si muove il consumatore rispetto alle logiche della sostenibilità. Su questo ci sono diverse analisi che ci mostrano anche come cambia la percezione della sostenibilità a seconda anche delle fasce di età, perché quando parliamo di turismo e parliamo di comunicazione dobbiamo anche ricordarci a chi vogliamo comunicare, nei confronti di chi è orientata la nostra comunicazione. Già il turismo come materia è molto sfaccettata e ha connotazioni e caratteristiche profondamente diverse. In più, inevitabilmente, a seconda dei target che andiamo a stimolare, dobbiamo tarare anche una comunicazione adeguata. Le nuove generazioni, i più giovani, hanno certamente una sensibilità più marcata rispetto a quelli che sono i temi legati soprattutto alla sostenibilità ambientale e questo per loro diventa un elemento di scelta forte che indirizza la volontà di prendere e scegliere di fare una vacanza, un'esperienza di viaggio in una destinazione piuttosto che in un'altra. A mano a mano che si cresce con l'età, la consapevolezza rimane ma cambia nella sua declinazione fino ad arrivare a un punto che per noi è altresì importante da sottolineare, il fatto che i dati ancora ci confermano che il turista adulto, soprattutto l'italiano, ma anche all'estero, è un dato che ritroviamo in maniera importante, si tiene moltissimo la sostenibilità ambientale, ne riconosce l'enorme valore, ne pone un'attenzione, ma ancora non è disposto a spendere in più per perseguire questo obiettivo in maniera importante. Quindi riuscire a trovare il giusto match tra un adattamento del modello, di alcuni modelli di turismo senza che questo vada a impattare necessariamente sui costi e quindi riuscire in qualche modo a trasmetterlo è un percorso, è un processo oggettivamente complesso nel quale c'è bisogno di avere una strategia. Noi stiamo cercando di sempre di più porre l'accento e l'attenzione su modelli turistici a minore impatto. Il Ministro ha citato prima il Giro d'Italia, tanto per fare un esempio, visto che ieri eravamo coinvolti entrambe nella manifestazione, ma dietro c'è tutto il tema del turismo sportivo, turismo lento, nelle tutte le sue varie forme e declinazioni. Questo è un trend che sta crescendo molto, non solo in Italia, un po'. Guardo la mia amica Viviana Vucelic, rappresentante dell'ente croato, nostro competitor, tra virgolette, amico ovviamente, ed è un trend spesso quando discutiamo oppure ragioniamo su alcune visioni ci rendiamo conto che poi alcuni elementi comunque si stanno innestando nelle culture locali delle persone, quindi stanno diventando dei valori che comunque le persone percepiscono come facenti parte, è come la propensione al viaggio. Trenta, quarant'anni fa concedersi un viaggio era ancora qualcosa di esclusivo, era qualcosa di speciale. Oggi è diventato, rientra nel paniere degli elementi che sono per noi normali e imprescindibili. Quindi porre attenzione, e questo significa farlo a 360 gradi, quindi coinvolgere le località, coinvolgere gli operatori, cioè far sì che tutta la filiera sia adatti a un concetto di turismo nuovo, a volte passa però per scelte di campo strategiche, che se non sono abbracciate dalla collettività difficilmente riescono a essere pienamente integrate. Un altro esempio che si cita poco è per esempio di tutta la parte del turismo nautico. Scoprire dalle coste una destinazione come la nostra, per esempio, è un altro modo meno impattante per fare un turismo diverso, di qualità, sicuramente declinato anche in maniera diversa, ma fortemente esperienziale, che ha una rilevanza per noi strategica. E questo parte, immaginate, ma poi ve lo racconteranno meglio di me, i relatori che seguiranno, dal mondo delle crociere sull'enorme sforzo che fanno per abbattere in questo momento le loro emissioni e quindi l'impatto che hanno, fino a, immaginate, a tutta la nautica da di porto, che sta avendo un enorme sviluppo, una grandissima espansione, ma sulla quale però dobbiamo investire, soprattutto in termini di infrastrutture, perché poi la sostenibilità dobbiamo imparare a declinarla anche in temi pratici, altrimenti rimane qualcosa di bellissimo, teorico, ma poi poco scaricabile a terra. Ok, appunto, è molto importante fare squadra. Quali sono tutti gli altri stakeholder, gli altri soggetti che è importante, che è necessario coinvolgere per promuovere il territorio, anche in termini di sostenibilità? Partiamo come, ovviamente intanto un dialogo fra le istituzioni che è il primo elemento, finalmente siamo in una condizione dove i ministeri si parlano, mi fa quasi specie dire questo perché in un paese normale dovrebbe essere qualcosa di scontato, ma noi siamo straordinariamente anormali talvolta. In questo momento il fatto che i ministeri dialoghino, che le linee vengano condivise e ci sia una visione di intenti dove il turismo viene coinvolto, che si parli di infrastrutture, che si parli di Made in Italy, che si parli di qualsiasi declinazione, questo diventa la prima, il primo fondamento, il pilastro sulla quale poi si può costruire tutto il resto. Perché poi i territori sono sempre pronti a rispondere all'input che viene lanciato, gli operatori, il privato è sempre ben disposto ad accogliere la mano che gli viene tesa dall'istituzione per fare meglio, per crescere e per potenziare anche quello che è un'offerta locale idonea alle aspettative, perché in fondo si tratta di economia.